Fari puntati sul porto di Gela, l'amministrazione comunale ha un piano di riqualificazione articolato in più fasi. La prima e più urgente è quella di una manutenzione messa in sicurezza dallo scalo, con lavori di escavazione dei fondali per rendere navigabile sia l'imboccatura dal porto che lo specchio d'acqua interno e, come dicevamo, la messa in sicurezza delle banchine. Per velocizzare l'iter, il sindaco Domenico Messinese intende convocare un tavolo tecnico per far ripartire in poche settimane il primo e più urgente programma di interventi. La seconda e più articolata fase riguarderà invece le opere di miglioramento e ampliamento del porto e quanto emerso al termine della riunione, svolta sia Caltanissetta, con i funzionari del Genio Civile Opere Marittime. Erano presenti anche il vice sindaco Simone Siciliano e l'assessore Chetti Damante. Gli operatori del porto sono esasperati, hanno ragione, perché da molto tempo è che gli vengono promesse determinate cose e non sono mai state mantenute perché il porto si lascia capire da solo come la situazione è reale, quindi è impraticabile. Noi siamo molto chiari, non vendiamo fumo, quindi in quel tavolo tecnico si è detto che vogliamo vedere molto chiaro sulla situazione del progetto attuale del porto, se ci sono realmente le condizioni per farlo, che per quello che noi abbiamo potuto analizzare non esistono, e a seguito di questo tavolo tecnico che noi chiederemo con tutti gli attori che sono interessati per la portualità a Gela, tireremo le nostre conclusioni. Se non vi sono le condizioni a condorno per poter fare il porto, allora troveremo un'altra soluzione, però sicuramente dopo 30 anni non si può parlare di un progetto che sta partendo immediatamente. O ci sono le condizioni adesso, oppure dobbiamo trovare una soluzione. Sostanzialmente le dice, ci sono le autorizzazioni, non ci sono i soldi. Ci sono le autorizzazioni, non ci sono i soldi, qualcuno dice che ci sono i soldi, non ci sono le autorizzazioni. Noi vogliamo vedere tutte le cose in un unico tavolo con tutti i soggetti e deve essere messo nero su bianco, perché carta canta.